Bene, eccoci di ritorno con i nostri appuntamenti, ma questa volta abbiamo un appuntamento, siamo andati un po' oltre la leggerezza, ci siamo direi appesantiti, perché oggi cerchiamo di parlare di arte e lo facciamo con un professore, un professore altamente competente della materia di cui andremo a parlare e solitamente un po' snobbata durante questo periodo. Ho il piacere di avere qui oggi pomeriggio l'amico e il professor Massimiliano Ferrario, che è docente di storia dell'arte contemporanea e postmoderna. Per quanto riguarda la sua attività completa, possiamo anche dire curatore e critico d'arte dell'Università degli Studi dell'Insubria, Varese e Como. Ciao Massimiliano e ben arrivato. Ciao Bruno, grazie mille dell'invito, sono veramente molto onorato di poter tentare questo approccio, questa congiunzione fra un mondo in apparenza così, visto un po' come criptico e come difficile da divulgare e appunto un canale comunicativo, comunicazionale con un professionista che ci permette anche di parlare sui social e comunque di arrivare a un pubblico giovane insomma e curioso, comunque variamente diciamo composto. Quindi ringrazio a te per l'invito. La nostra finalità è un po' questa, grazie, sono onorato io davvero di questa presenza. Iniziamo un po' questo nostro viaggio attraverso un po' le tue considerazioni e quelle che sono le tue competenze. Vogliamo cominciare a mettere un puntino sulle i su questa situazione. Diciamo che da qualche settimana siamo all'interno delle nostre abitazioni, abbiamo visto radio, sentito radio, televisioni, social, ma per quanto riguarda l'arte non se ne è parlato moltissimo e soprattutto se possiamo dire al di là di un caso che ha creato un po' di scandalo, di cui parleremo dopo, è stato un argomento un po' messo in ombra. Eppure se non mi sbaglio, ma dimmi esattamente, se vado come bastian contrario, l'arte dovrebbe essere un elemento molto importante nel nostro paese, dovrebbe essere correlata anche a tutta l'industria del turismo. Allora penso a tutto lo sconvolgimento che possa esserci stato all'interno dei musei, delle gallerie d'arte, penso a tutto il personale coinvolto in tutta la filiera. Come è possibile, francamente, che si sia parlato così poco? E soprattutto, allora, in questo momento, qual è un po' il rapporto tra arte didattica e creatività? Allora, parto dal penultimo quesito, ovvero quello relativo al fatto dei perché, se mai è possibile diciamo rintracciarne uno o più di uno. Si parli sempre poco d'arte, di cultura in senso assoluto in un paese come il nostro che ne custodisce, diciamo, la grandissima parte. La domanda qui è molto complessa e io credo che richiederebbe probabilmente uno spazio molto più approfondito. Però diciamo che questa condizione di quarantena ha reso, diciamo, ha reso magnifiche, ha amplificato delle sacche, diciamo, di non intervento che avevano, diciamo, caratterizzato già la gestione odierna dei beni culturali nel nostro paese. Per dirla in altri termini, laddove si può tagliare nel momento in cui sia c'è una condizione di normalità. In maggior modo, laddove invece c'è una condizione di crisi, è certamente uno dei primissimi ambiti, purtroppo, quello della cultura e degli incentivi all'arte, latamente intesa. Oggi noi ce ne siamo accorti molto in, diciamo, relazione al dato sanitario, cioè abbiamo improvvisamente fatto i conti con quanto questi drammatici tagli alla sanità poi abbiano generato dei grossissimi problemi nella gestione dell'emergenza, la cultura, che vista qualcosa sempre un po' a sé, viene immediatamente messa in secondo piano. Quando comunque noi ci dimentichiamo che quando parliamo di cultura, di università, dobbiamo intendere il sapere a 360 gradi. Cioè quel sapere che come forma uno storico dell'arte forma un medico. Purtroppo questo messaggio è difficile che passi in modo compiuto. Per quanto invece riguarda il rapporto tra arte, creatività e quarantena, guarda io da docente ti posso dare una testimonianza concreta di che cosa voglia dire, tentare ovviamente di reinventarsi nuove modalità di gestione anche del rapporto vis-à-vis con lo studente. Siamo contenti di ascoltarti, eh? Si parla molto di teledidattica e quindi anch'io mi sto un attimino approcciando a questo sistema. Chiaramente essendo ancora abbastanza giovane non ho grosse problematiche, però mi accorgo che invece altri miei colleghi un po' più agè, professori anche ordinari, associati, già incardinati da tempo, stanno avendo molti problemi, molti più di quelli che ho io. Sicuramente è un esperimento sociale molto interessante sia per lo studente che per il docente, anche perché ti permette di testare la tua comunicazione a livello virtuale, cosa non da tutti i giorni. Per quanto riguarda, e chiudo su questo primo punto, il discorso invece della filiera museale, eccetera, magari poi questo tema lo prendiamo nello specifico un po' più in là, si stanno tentando delle forme, diciamo, ibride, nuove, per permettere chiaramente al pubblico di non restare al di fuori, diciamo, del percorso espositivo. Ma questo è un tema che magari possiamo toccare, se ritieni, un po' più avanti. Infatti io intendo girare ancora un attimo attorno alla problematica centrale legata al momento in cui stiamo vivendo, aspettando ad entrare così a gamba tesa all'interno del tema dell'arte. Vorrei spostarmi oltre a Oceano. Penso ad esempio a Jerry Souls, che è stato premio Pulitzer 2018 negli Stati Uniti, grandissimo esperto di arte, il quale afferma in un'intervista che il virus non può uccidere l'arte, però potrebbe uccidere il 99% degli artisti. Dà in questa sua intervista una situazione veramente apocalittica di quello che sta accadendo, parla del Nord America e nella fattispecie di New York. Dice che moltissime delle gallerie e degli studi sono state chiuse proprio perché hanno comunque dei costi veramente molto alti e di conseguenza aspetta che il governo americano possa fare qualcosa. Se però mi sposto ad esempio in Europa, penso a Germania, penso a Inghilterra, penso alla Francia, ho visto assolutamente delle posizioni molto avanzate attraverso finanziamenti, contributi, sovvenzioni pubbliche o private per far ripartire proprio il mondo dell'arte. Mi spiace farti questa domanda, ma in Italia? Allora, qual discorso si complica ulteriormente? Nel senso che sicuramente Schulz ha toccato con il pessimismo ironico che lo contraddistingue, con quella punta di sarcasmo che è tipicamente diciamo anglosassone anche, non a caso è un Pulitzer ovviamente, non per nulla, ha toccato un tasto dolente, però il discorso di Schulz è effettivamente corretto se inteso per lo statunitense. Mi spiego. Il sistema dell'arte mondiale, globale, ad oggi è al 99% statunitense se escludiamo il blocco est, il blocco cinese, che vive un po' un mondo a sé. Però fare arte, fare speculazione artistica, fare mercato dell'arte soprattutto contemporanea, ma anche degli old master, fare arte e vendere arte a 360 gradi oggi significa fare i conti col sistema new yorkese soprattutto, comunque statunitense. Nel momento in cui anche i musei, le grandi gallerie statunitensi sono costrette a chiudere, è chiaro che si genera un cortocircuito, un vero e proprio block out, cioè un black out, scusami ho fatto una crasi fra lockdown e black out, quindi un block out, una vera, come dire, un astasi che chiaramente a catena devasta quello che è la realtà economica e mercantile globale. Il discorso di Schultz quindi funziona, se intendo, corretto nell'ottica americana, anche perché ci sono dei precedenti, nel senso che Schultz non fa null'altro che richiamarsi con questo appello a quello che Roosevelt aveva fatto negli anni immediatamente successivi alla grande depressione del 29, nell'ottica del New Deal, aveva fatto in merito al rilancio proprio della componente storico-artistica, soprattutto con finalità mercantili, perché sono da sempre nel DNA del mercato appunto statunitense. Cosa aveva fatto Roosevelt? Vista la moria totale che circondava il mercato dell'arte, aveva stanziato, stampato, iniettato nel mercato moneta, appositamente finalizzata a promuovere mostre pubbliche, sagre, contest, conferenze, cioè vetrine, a creare vetrine dove letteralmente migliaia di artisti, tra cui anche nomi che poi sarebbero diventati dei colossi. Cito Jackson Pollock, Mark Rochko, Ad Reinhard e molti altri, cioè lo zoccolo duro che poi avrebbe costituito la scuola di New York degli anni 50-40-50, è stata generata grazie al piano di Roosevelt. Ora noi sappiamo che un discorso come questo non può in alcun modo essere importato to court in un contesto come quello europeo, in primis, prima che italiano, proprio perché l'Europa non è una confederazione a tutti gli effetti, cioè gli Stati Uniti d'Europa che invocava giustamente Altiero Spinelli tra i padri fondatori non si sono mai concretizzati. Diversa invece la questione, e chiudo, della Gran Bretagna, perché proprio un paio di giorni fa, tre o quattro giorni fa, uno dei più famosi critici d'arte a livello mondiale, che è Obrist, uno svizzero, Hans Ulrich, che è il direttore scientifico e artistico delle Serpentine Galleries di Londra. Rifacendosi anche egli al modello americano del New Deal, ha proposto però a un'Inghilterra che è in fase di Brexit e quindi lì sì che avrebbe un senso, perché avrebbe la possibilità di stampare moneta. Ha proposto proprio questo, cioè un ingente piano di investimento pubblico a sostegno del mercato dell'arte, dell'indotto. La Francia e la Germania sappiamo che sono delle realtà che agiscono in sintonia, anche a livello economico. L'Italia, nonostante sia la patria dell'arte, non lo è per quanto riguarda le politiche illuminate invece di stanziamento. E mi fermo qua, penso di essere stato chiaro. Io aggiungo solo, insomma, forse siamo addirittura al buio, ma comunque, nonostante il grande patrimonio universale che abbiamo all'interno del nostro paese. Vorrei tornare velocemente al tema di Sgarbi, perché è stato proprio lui, francamente, ad aver avuto questo tipo di problema e a lanciare questo tipo di scandalo. Come stavo dicendo, Sgarbi è intervenuto in maniera pesante a difesa dell'arte e soprattutto dell'apertura dei musei e contro il diktat dato dai virologi italiani. Poi ha un po' ridimensionato le sue posizioni. Adesso, negli ultimi giorni, è tornato a richiedere l'apertura dei musei. Volevo chiedere un tuo parere in merito a queste dichiarazioni, ma soprattutto se vuoi entrare un po' nel concetto di questa libertà che lui ha inteso facendo queste affermazioni in maniera forse un po' troppo forte all'inizio della sua prima entrata nell'opinione pubblica. Allora, conosciamo il personaggio di Sgarbi, che chiaramente è un personaggio che ha generato sulla sua capacità, oltre che comunicativa, ma diciamo di provocazione, ha creato proprio il mito del personaggio Sgarbi. Sgarbi però, in effetti, essendo un personaggio dicotomico, è abile, oltre che nel fare gaff clamorose, delle quali poi tendenzialmente è costretto a pentirsi. Questa è stata probabilmente una delle rarissime volte in cui veramente ha dovuto fare una retromarcia sincera, perché la sottovalutazione iniziale è stata francamente esagerata. Però di questo non voglio parlare. Il tema che ha posto in un certo modo, cioè che a mio avviso Sgarbi ha perfettamente ragione, però adesso cerco di dare anche una, come dire, una conferma costituzionale al discorso di Sgarbi, oltre che magari di pensiero e filosofica, magari appoggiandomi anche a qualche piccola frase detta già da altri. Sgarbi dice giustamente che il bene culturale in Italia, quindi la possibilità per il singolo di accedere a una mostra d'arte, la possibilità per il singolo, per un gruppo, per le persone di entrare in una chiesa, credenti o meno, di apprezzare un affresco, di rendersi conto della bellezza di una scultura barocca. Quindi tutte queste possibilità sono state negate dal lockdown, soprattutto in fase di emergenza piena, cioè quando l'Italia era sostanzialmente zona rossa. Nel momento in cui si esce un attimino dal plateau, dal picco, e si passa alla famosa fase 2, Sgarbi semplicemente dice perché non gestiamo l'accesso ai musei, alle grandi mostre, alcune delle quali non hanno neanche fatto in tempo ad aprire, per esempio quella mirabile su Raffaello, perché non consentiamo un accesso contingentato? Cioè se l'accesso è contingentato in ambito di acquisto di beni di prima necessità, quindi nei supermercati, nelle farmacie, addirittura nei tabacchini, che è abbastanza un cortocircuito intellettuale, anche etico, perché non lo facciamo a maggior ragione a livello museale, che di per sé è un contesto che non si presta ad assembramenti, diciamo da stadio già di suo. Quindi Sgarbi dice questo, ma io aggiungo qualcosa, noi dovremmo riflettere proprio sulla nozione di bene culturale. Perché si chiama bene un prodotto dell'estro e dell'ingegno umano? È un bene culturale proprio perché la Costituzione lo intende come bene comune, cioè lo intende come qualcosa di inalienabile e soprattutto che non può essere svincolato dal dato paesistico, perché l'Italia è Italia in quanto tale, perché la Costituzione, all'articolo 9, accomuna e tutela il patrimonio storico-artistico-architettonico e paesaggistico della nazione, creando un unicum a livello internazionale, a livello di civil law, quindi di codice scritto, che non ha epigoni, che non ha esempi, non ha altri modelli. Quindi se noi ci rifacciamo alla Costituzione, Sgarbi ha perfettamente ragione. Il bene culturale è un bene di prima necessità, proprio perché il nutrimento dell'anima, dello spirito, al pari di quanto un tozzo di pane o un litro di latte lo sono per il corpo. Quindi se mi sta bene che in fase 1 si chiuda, in fase 2 è necessario e prioritario riaprire con tutti i crismi. Quindi paradossalmente l'unica volta in cui aveva ragione al 100% ha dovuto fare una piccola retromarcia. Professore, io ti ringrazio, abbiamo fatto un cappello di introduzione per prepararci al tuffo dentro quella che è la materia di tua competenza. Lo ricordo che sei docente di storia dell'arte moderna e contemporanea all'Università degli Studi dell'Insubria, Varese Como, sei un curatore e un critico d'arte. E allora ti chiedo, pensando alla situazione di privazione di libertà, ci sono stati degli artisti che hanno creato in queste condizioni? Me lo chiedo perché immagino che generalmente l'ispirazione arrivi da fattori esterni. ed essere privati della libertà e magari rinchiusi dentro quattro mura possa privare o quantomeno essere un deterrente a tutto questo. Illuminaci! No, figurati. Cerco di dare magari delle chiavi di lettura che possano stimolare un po' di, come dire, riflessioni nei singoli. Innanzitutto vorrei riprendere, perché non mi ero dimenticato, l'ho solamente lasciato apposta per questo cappello introduttivo, volevo riprendere e partire da quella che io considero un po' la lezione che tutti dovremmo apprendere da questa emergenza. Che fare col concetto di libertà? In quanto sostanzialmente l'uomo occidentale, soprattutto contemporaneo, è inserito nella civiltà del benessere, al di là chiaramente delle sacche di povertà e di disuguaglianza che fanno parte, sono connaturate chiaramente nell'essere civile, nell'essere umano, io penso che la grande lezione sia proprio quella legata all'importanza di quanto noi siamo soliti dare per scontato la nostra concezione, la nostra libertà. Cioè il fatto che noi agiamo da animali sociali, come diceva appunto il buon Aristotele nella politica, che abbiamo, ci nutriamo della socialità, dandola poi nel tempo per scontata. E nel momento in cui siamo costretti, per motivi di emergenza sanitaria, a rientrare nel nostro uovo, nel nostro alveolo familiare, domestico, ecco che tutto ciò ci manca. Quindi secondo me la prima cosa da fare è interrogarsi su questo. Io se vuoi ti cito, mi sono segnato tre rapidissimi aforismi che trovo abbastanza, come dire, paradigmatici, esaustivi di questa situazione, che sono uno di Edgar Allan Poe, uno di Khalil Gibran e uno di Pierpaolo Pasolini, che sono tra i miei tre autori prediletti. Poe, nel Genio della perversione del racconto del 45, si domanda e ci domanda Oggi sono in catene e sono qui. Domani sarò senza ceppi. Ma dove? Lasciandoci quindi un quesito che secondo me resta in evaso, ma che potrebbe essere una buona chiave di lettura. Gibran invece, in uno sviluppo un po' più articolato, in un romanzo, diciamo, in un saggio di automiglioramento, che è l'arte di conoscere se stessi, cita testualmente, mi dicono due punti, se trovi uno schiavo addormentato, non svegliarlo, forse sta sognando la libertà. Ed io rispondo, se trovi uno schiavo addormentato, sveglialo e parlagli della libertà. Il terzo aforisma, che è quello di Pasolini, che è tratto dal Caos, che è una raccolta postuma di pensieri che Pasolini aveva scritto attorno al 68, in periodo di, chiaro, di subbuglio sociale e studentesco, Pasolini dice, io so questo, due punti, che chi pretende la libertà, poi non sa cosa farsene. Quindi, attraverso queste tre frasi, io arrivo a rispondere alla tua domanda. Cioè, certamente, la risposta al quesito è sì. Cioè, nonostante condizioni più o meno di privazione di libertà, che può essere sia fisica che psicologica, quindi magari di alienazione individuale, di tormento, l'arte ha sempre saputo dare delle risposte. Cioè, l'arte è sempre stata magistrale, protagonista, della capacità di raccontare, non solo il proprio tempo, attraverso la vicenda umana, artistica e pittorica, delle personalità che hanno vissuto quell'epoca, a seconda della stessa. Ma in molti casi è riuscita a prefigurare contesti, scenari futuri, che poi si sarebbero effettivamente cristallizzati, cioè sarebbero effettivamente riproposti in corsi e ricorsi storico-artistici, come mi piace un po' chiamarli, fino all'oggi. Pensiamo solamente al caso celeberrimo, perché penso noto a tutti, che è quello di Vincent Van Gogh. Sappiamo che Van Gogh è stato profondamente, non solo alienato a livello individuale, ma profondamente emarginato dalla comunità alla quale apparteneva, accusato di essere un artista del brutto, capito da pochissime persone, tra cui Gauguin, il compagno amico di vita, e l'amatissimo fratello Theo, al quale scrisse una serie di lettere veramente di una pregnanza, non solo sapienziale, ma proprio umana, da lacrime. Ebbene, la parabola di Van Gogh ci dimostra come, in condizioni di profonda solitudine, e in quel caso, sia fisica che psicologica, si possa, l'arte, l'estro sia in grado di partorire, di produrre dei capolavori che divengono delle vere e proprie icone immortali senza tempo, al di fuori del tempo. Grazie di questa tua risposta. Io farei proprio un passo avanti, perché trovo che ci sia una correlazione con la domanda che ti ho posto poc'anzi, ovvero siamo quasi arrivati alla seconda fase, ne parlano tanto, auspichiamo tutti quanti di uscire da queste quattro mura, ma la realtà è che noi ci siamo rimasti proprio confinati, abbiamo cominciato ad essere un po' introspettivi con l'ambiente domestico, abbiamo avuto un rapporto diverso, forse, anche con chi coabita con noi, al massimo abbiamo fatto due passi in giardino o ci siamo affacciati al balcone. L'arte ha mai rappresentato casi di isolamento anche all'interno delle mura domestiche? Questa è una bellissima domanda ed è un tema che paradossalmente ci permette proprio di fare un excursus molto ampio a livello di ventaglio cronologico, proprio perché essendo all'arte capace di dare nome, di tradurre figurativamente, cioè di tradurre in immagine, concetti che poi nel tempo avrebbero assunto dei significati concreti, è veramente qualcosa di unico che solamente il mezzo artistico riesce a fare. In riferimento alla rappresentazione dell'ambiente domestico, in effetti le nozioni di privacy, che noi, la nozione di privacy e di ambiente domestico, di focolaio domestico, come noi oggi lo intendiamo, deve proprio la sua codificazione artistica a una serie di pittori, soprattutto di pittori ad olio, inventori tra l'altro della tecnica ad olio, che furono i pittori fiamminghi della prima generazione della scuola fiamminga dei primi anni 30-40 dei 400, eredi di una tradizione di gotico internazionale molto più ampia, che appunto hanno iniziato a rappresentare, ad inserire scene sostanzialmente di tematica sacra religiosa, perché chiaramente era la dimensione preponderante nel Medioevo, ma lo sarà anche per tutta l'età moderna, all'interno, in maniera particolare, all'interno di ambienti domestici. tra questi non a caso non a caso cito un grande storico olandese che è Johan Oitzinga che a proposito di questo affermava proprio che per la prima volta con gli artisti fiamminghi lo scopo dell'arte divenne quello di interrogarsi con la routine del quotidiano per riempire di bellezza la vita in un mondo a quel tempo devoto e strettamente legato a liturgie e sacramenti. Quindi mi sembra una definizione perfetta. Quali sono questi artisti? Io posso citarne qualcuno. I fratelli Jan e Hubert van Eyck, Robert Campen, detto il maestro di Flemall, e Rogier van der Weyden che appunto attraverso le loro opere diciamo tradussero figurativamente quello che noi intendiamo oggi con la nozione di privacy inserendo scene come l'annunciazione, scene come un'apparizione della Vergine, una visitazione all'interno del focolaio domestico. Un esempio è il cosiddetto Libro d'Ore di Torino perché è conservato appunto a Torino nel Museo Civico di Arte Antica che è un codice miniatum, un libro di preghiere che è di origine tardo-trecentesca del 1390 circa che vide proprio protagonista Jan van Eyck autore di una delle pagine decorate, miniate più interessanti dell'intero codice dove la scena della nascita del Battista è inserita proprio in un ambiente domestico quando invece la parola diciamo il testo ci dice ben altro e come non pensare invece ad altri capolavori come ad esempio l'annunciazione di un artista come Robert Campen che è nominato il cosiddetto maestro di Flemall dove nel pannello centrale di un politico di un trittico effigia proprio la scena dell'annunciazione in ambiente domestico e ancora pensiamo al ritratto dei coniugi Arnold Fini celeberrimo dipinto di Jan van Eyck del 1434 molto noto anche perché enigmatico carico di simbolismi oggi conservato alla National Gallery di Londra dove Jan van Eyck fa qualcosa di più cioè porta inizia a portare lo spettatore all'interno della dimensione domestica qui il soggetto non è più soggetto sacro ma è soggetto diciamo profano sono una coppia di coniugi altolocati e lo spettatore ha la sensazione di essere all'interno di quella scena una lezione che poi verrà portata avanti anche dai maestri della seconda generazione fiamminga quindi degli anni 50-60 del 400 come Derek Bautz che realizza una splendida ultima cena del 1464-67 dove appunto il banchetto tra Cristo e i suoi discepoli si svolge all'interno di un'ambientazione domestica con le caratteristiche archettature gotiche che appunto è una cosa di molto molto particolare questa grande sì volevo dirti è molto bella la considerazione che hai fatto e non non l'avevo mai mai presa seriamente ovvero quella di pensare all'ambiente domestico nella raffigurazione ma all'attualizzazione della privacy noi oggi la intendiamo non avevo mai fatto questo tipo di correlazione quindi è davvero interessante pensarci e poi riflettendo effettivamente era già un'invasione dentro la privacy domestica esatto e i fiamminghi prego i fiamminghi sono veramente un punto di cesura perché prima di loro questo non era veramente impensabile cioè l'arte fino ad allora si era retta su concetti diametralmente opposti l'ambiente domestico non era mai stato utilizzato tanto più per rappresentare delle scene sacre e comunque era sempre stato relegato in secondo e in terzo piano i fiamminghi veramente sono dei pionieri da questo punto di vista cioè addirittura arrivano a inserire il sacro nel profano nel profano del domestico facendo compiendo un balzo in avanti a livello proprio di modernità e di visione oltre sempre per tornare alla capacità dell'arte di prefigurare scenari ben più come dire lungimiranti che poi in effetti sarebbero stati colti da altri artisti nel corso dei secoli io ne cito uno fondamentale a mio avviso proprio per questa logica sempre dello spostamento del punto di vista cioè del fatto di portare come dire l'osservatore del quadro sempre più all'interno dell'opera stessa che è il grande il grandissimo Diego Velázquez sommo interprete del barocco spagnolo grande soprattutto ritrattista di corte per la corte chiaramente di Asburgo che è celeberrimo soprattutto per un dipinto che a mio avviso può essere considerato un po' il capolavoro assoluto dell'artista che è Las Meninas ovvero Le Damigelle d'Onore opera del 1656 oggi conservata al Museo del Prado di Madrid che tra l'altro attenzione prima di parlare nello specifico di questo quadro voglio ricordare come Velázquez facendo proprie le suggestioni dei fiamminghi le indaga con una dimensione di immersione nell'ambiente domestico ancora più ampia e lo fa in varie opere tra l'altro facendo sua la lezione di un altro sommo maestro che di grande cesura di grande rottura quale fu Caravaggio che scardinò anche la gestione luce e ombra appunto col suo naturalismo con la sua capacità di creare questi chiaroscuri di utilizzare donne di vita e uomini di strada per tratteggiare scene sacre Velázquez che appunto verrà poi omaggiato da molti artisti nel corso dei secoli da Van Gogh stesso a Picasso a Salvador Dalì si occupò proprio della tematica dell'indagine domestica in opere come ad esempio la vecchia Friggetrice di Uova un quadro del 1618 oggi alla National Gallery di Edimburgo dove Velázquez appunto tratteggia questa umilissima condizione di reclusione nella propria dimora con questa vecchia signora intenta a friggere delle uova come ci dice il titolo immersa in questa penombra e aiutata diciamo nelle operazioni dal nipote che spunta proprio dalle tenebre per porgerle del vino e una zucca ma anche in altre opere come ad esempio il tema dei bevitori degli agricoltori del pranzo proprio delle umili persone riunite attorno a un tavolo oppure il tema della domestica quindi tutte queste tematiche diciamo di cultura popolare sono soventemente inserite all'interno proprio di focolai domestici che Velázquez mutua proprio dal grande lascito fiammingo con Las Menignas fa qualcosa di più con quest'opera straordinaria del 1656 al Prado di Madrid lui riesce a spostare il punto di vista ulteriormente rispetto ai fiammingi innanzitutto la scena rappresenta la vestizione cioè proprio l'atto di vestire la primogenita della coppia reale l'infanta Margherita che è questa bellissima bambina bionda vestita con la moda del tempo quindi con la con la gonna gonfia no a turbante che è assistita da queste damigelle e che risalta per la sua grazia per la sua fragilità anche accentuata dal capello molto biondo ebbene a questo spaccato diciamo etereo che trasuda anche nobiltà Velázquez inserisce dall'altra parte per controbilanciare in questo gioco di specchi continuo la figura della nana della serva che è volutamente descritta con tratti somatici quasi grotteschi caricaturali nana davanti alla quale è collocato il mastino appunto in questo gioco di bruttezza diciamo di bruttezza di come dire di bestialità nella quale si ricalca chiaramente del mastino nella quale si rispecchia un po' questa figura un po' deforme della nana invece la bambina fa da contraltare la cosa geniale di quest'opera oltre al fatto che l'artista Velázquez si autorappresenta al centro della scena mentre sta ritraendo i coniugi regali che sono tra l'altro visibili allo specchio proiettato sul fondo che noi vediamo quelle due persone che vediamo nello specchio nient'altro sono che i coniugi che sono esattamente dove siamo noi che osserviamo l'opera quindi questo colpo di genio di portare lo spettatore non solo all'interno dell'opera ma di portarlo nel punto di vista privilegiato che è quello della coppia reale e quindi un modo per nobilitare in maniera clamorosa il fluitore che è come se in quel momento è oggetto del ritratto stesso di Velázquez quindi veramente un colpo di genio clamoroso mi viene da dire veramente veramente molto molto interessante e credo che ci sia un profondo arricchimento culturale con queste tue esposizioni e soprattutto anche mentre parliamo chi ci sta seguendo avrà potuto vedere anche le immagini e capire le descrizioni che tu hai fatto vorrei fare ancora un passaggio importante vorrei farlo ulteriormente tangibile ovvero fino a questo momento abbiamo comunque spiegato che c'è una certa situazione che ha creato un determinato danno all'arte ma anche un disagio soprattutto verso chi era appassionato chi era abituato a frequentare gallerie musei eccetera eccetera bene abbiamo anche saputo che a livello internazionale non lo so a livello italiano forse in maniera un po' più ridotta tutti coloro che avevano in procinto grandi eventi per quanto riguarda l'arte delle mostre sono stati in grado velocemente di riconvertire in qualcosa di virtuale per continuare materialmente a dare quella possibilità d'accesso e come dico io probabilmente ad affamare coloro che materialmente erano abituati o avevano già acquistato i biglietti bisognava però in tutte queste trasposizioni fatte dai telegiornali o da qualche raro servizio essere subito pronti con carta e penna perché non riuscivamo chiaramente a prendere nota di quello che accadeva approfitto della tua presenza sicuramente tu sei al corrente di quelle che erano le più importanti a livello internazionale e magari anche italiane dacci con tutta la calma possibile un panorama di quali sono queste mostre o di questi eventi così importanti che noi poi possiamo vederci virtualmente attraverso la rete allora come ho anticipato all'inizio senza dubbio l'evento artistico dell'anno proprio perché ne celebra i 500 anni dalla scomparsa è la mostra dedicata a Raffaello Sanzio allestita presso le scuderie del Quirinale di Roma mostra che poverina ha aperto e poi è stata subito costretta a chiudere tra l'altro veramente la mostra antologica più importante mai fatta sul sommo protagonista della pittura rinascimentale italiana e mondiale che è stata riconvertita nella formula del tour digitale tour digitale che però e qua si potrebbe fare delle piccole annotazioni tour digitale che è stato pensato nella formula dell'audioguida cioè del tour guidato una sorta di filmato in loop anzi io visito chi ha la possibilità chiaramente di si clicca semplicemente Raffaello mostra si può entrare nel sito delle scuderie si può fare il giro virtuale quindi del tour fisico dove tu ti muovi fisicamente però all'interno di un video non sei tu che hai la possibilità con software magari di realtà aumentata di girare all'interno del museo cosa che invece accade in altri contesti che poi citerò nel caso di questa mostra forse perché siamo italiani forse perché siamo un po' rifrattari a desacralizzare certi miti iconici pittorici però si è scelta questa formula dell'audioguida e del video diciamo che ti puoi vedere praticamente in loop con la guida con la storica dell'arte che opera per opera ti spiega chiaramente quello che stai vedendo come se noi diciamo in condizioni di normalità andassimo in un museo e ci mettessimo le nostre cuffiette per apprezzare ciò che stiamo vedendo quindi questo è il caso chiaramente a livello italiano più eclatante molto invece differenti sono altri contesti soprattutto statunitensi e comunque anglosassoni in senso assoluto proprio in questi giorni infatti è stata inaugurata la mostra di Edward Hopper che è uno dei più grandi interpreti proprio di questa condizione anche di alienazione sociale e di solitudine proprio sommo interprete del realismo esistenziale americano della prima metà degli anni 50 del ventesimo secolo mostra per la quale è stato pensato un cortometraggio 3D girato dal grande registro svizzero Wim Wenders che ha appunto creato questo prodotto dal titolo Due o tre cose che io conosco a proposito di Edward Hopper che è appunto la trasposizione delle opere di Hopper quindi di quegli spaccati magari poi se vuoi possiamo parlarne di quegli spaccati di solitudine ma che è una solitudine che Hopper va a cercare nella quotidianità che non cercherebbe mai in una condizione di cattività forzata come la nostra quindi Hopper andava a indagare quello ebbene Wenders è riuscito a rendere a dare vita ai quadri di Hopper creando appunto proponendo questa logica della realtà aumentata del cortometraggio 3D che è qualcos'altro rispetto ai tour virtuali tradizionali quindi questo e tra l'altro è una nuova forma di veicolare il fatto artistico pensata proprio soprattutto per essere fruita sulle piattaforme social sulle piattaforme piattaforme social scusami non intanto mi incardo piattaforme social se penso alla grandezza del maestro immagino che il capolavoro abbia realizzato con quest'opera sicuramente assolutamente sì quindi diciamo che tutti quegli spaccati da The Nightworks sino alle sue ragazze in casa che guardano appunto dalla finestra di Hopper dico chiaramente quindi quei famosissimi quadri dove a trionfare il silenzio a trionfare è questo gioco di mutismi nonostante ci siano persone compresenti Wenders è riuscito proprio a dare vita cioè a dare vita al silenzio a dare vita alla cattività a dare vita a quella situazione di angoscia di solitudine che può essere più o meno angosciante a mio avviso in Hopper non lo era ma era appunto andare a ricercare quei momenti in cui era il silenzio pre-caos della società americana di quel tempo che gli interessava cosa che invece noi oggi in cattività viviamo in modo profondamente diverso cioè quando guardiamo dalla finestra noi non siamo una ragazza di Hopper quindi certamente quello del cortometaggio 3D è una nuova frontiera esistono poi anche altri diciamo altri tentativi di innovazione dai contest che stanno spopolando in rete alle più svariate ai più svariati collage anche ironici satirici dove vediamo quadri opportunamente reintitolati per essere aderenti al tema coronavirus il bacio di Hayez con la mascherina opere di street art di Bansky con le boccette di Amuchina in mano quindi tutto questo tam tam che rimbalza chiaramente sui social e che diviene come dire virale non a caso quindi torniamo lì proprio di oggi è l'immagine di Bansky dentro il proprio bagno dove ha realizzato addirittura anche con delle delle tempere un soggetto particolarissimo calcando ed evidenziando un po' l'ira e l'irritazione della moglie che non lo sopporta più appunto all'immino della casa però è stato con l'immancabile topino che lo contraddistingue veramente no Bansky diciamo che sa sempre essere un magistrale interprete dei fatti del contemporaneo lui c'è quando accade qualcosa siamo tranquilli che Bansky qualcosa per tradurlo figurativamente lo farà quindi si tratta solo di attenderlo allora se sugli eventi abbiamo chiuso io avrei un passaggio direi importante per tutti coloro che ci seguono perché solitamente non solo gli appassionati ma soprattutto i curiosi cercano attraverso le piattaforme social di avere magari quell'arricchimento culturale o di avere quegli approfondimenti che li mettono nelle condizioni poi di andare prenotare un viaggio andare a fare delle ricerche quindi se noi pensiamo ai social sempre come un elemento di opinione un elemento di relazione fortemente trasversale in realtà i social possono portarci anche ad un arricchimento culturale se ben utilizzati so che tu hai fatto un'operazione importante conosci molto bene nei social utilizzati sul fronte dell'arte e quindi a fronte di questo nostro incontro anche sotto nel nostro canale youtube troveranno l'elenco di quello che tu comunque hai fatto per poter andare a visitare quanto tu adesso ci dirai e vorrei che tu entrassi proprio in questo punto i social e l'arte questo questo è un tema enorme è un tema nuovo anche a livello proprio di ricerca scientifica accademica nel senso che chi si occupa di storia dell'arte contemporanea e di veicolazione del fatto artistico deve per forza di cose fare i conti con i nuovi media e soprattutto con la cross medialità che ormai è un dato diciamo caratteristico del nostro tempo io non sono fra cerco sempre di non come dire di non creare fazioni cioè quando mi trovo di fronte alle famose mostre che vanno molto adesso di realtà per esempio aumentata di experience mostre immersive che spesso sono anche pensate attenzione per essere poi riproposte proprio sui social attraverso video attraverso esperienze multisensoriali non sono come sarà anche perché forse il dato anagrafico mi aiuta però mi rendo conto che alcuni miei colleghi anche contemporaneisti fanno fatica a considerare quelle diciamo quei tentativi di come dire ingigantimento del fatto artistico non opera d'arte cioè il fatto che non sia esposta alla Klimt experience che non sia esposto il quadro di Klimt ma proiettato sulle pareti con dei suoni con delle musiche creando queste atmosfere suggestive dei dettagli di opere di Klimt secondo me non significa non fare arte significa semplicemente utilizzare il fatto artistico in sé quindi l'opera d'arte il quadro che è conservato in un museo per creare un'esperienza fruibile in maniera diversa in maniera innovativa quindi dal canto mio sono un difensore di queste sperimentazioni e trovo che i social se ben utilizzati riescano benissimo a far capire anche la bontà di certi esperimenti per quanto riguarda invece l'utilizzo del social come strumento esso stesso non solo di veicolazione dell'immagine chiaramente i riferimenti a Instagram a Pinterest a Facebook ovviamente ma soprattutto Instagram e Pinterest sono ovvi ma esistono anche social network pensati proprio per l'artista e per l'appassionato d'arte per colui il quale magari sogna un domani di diventare il nuovo Pollock o sogna un domani di diventare il nuovo Picasso ci crede fino in fondo e dice magari purtroppo non è così semplice soprattutto nel nostro paese però essendo questi social piattaforme free a livello infruibili a livello internazionale la logica comunque della visibilità chiaro segue degli algoritmi anche a livello di SEO eccetera però è potenzialmente globale quindi al di là dei social canonici esistono e che ci consentono i social canonici come Facebook ovviamente di andare anche ad approfondire le pagine dei magazine specializzati che chiaramente hanno sistematicamente la loro pagina Facebook da Art Tribune a Exibart a Finestre sull'Arte potrei citarne molte ma soprattutto ci sono esistono dei social pensati per gli artisti io ho fatto un elenco come sai molto più dettagliato e che magari poi evito adesso di sciorinare perché sarebbero nomi vuoti dico solo un po' qual è la logica di questi social e appunto quella posso farti dei nomi i maggiori sono Dantebus sono Ubiqui Art e sono Wider e Gigarte sono i quattro maggiori che trovano come documentazione e quindi prendono sono i quattro maggiori social network destinati pensati per i creativi per gli artisti che vogliono condividere in piattaforma ad addetti ai lavori con un accesso sostanzialmente free che poi è implementabile chiaramente con account premium alcuni però sono completamente free per esempio Dantebus è una sorta di Facebook veramente per gli artisti quindi è completamente free altri consentono anche diciamo delle funzionalità offrono delle funzionalità a pagamento ma comunque hanno una base di free using quindi sono accessibili a tutti e ti permettono di entrare in diretto contatto in rete con oltre che con altri artisti quindi creare circuito ma soprattutto con galleristi con mercanti a livello italiano europeo e anche internazionale poi chiaramente si seguono delle logiche particolari e bisogna anche avere un po' di fortuna come in tutte le cose però sono delle vetrine che molti non considerano magari perché non conoscono ma che in realtà esistono e che permetterebbero all'artista che sogna che sogna di vivere della propria arte magari al giovane ragazzo ma anche all'artista più maturo che sognerebbe di vivere della propria arte ma che purtroppo va sistematicamente a sbattere contro un sistema qual è quello del mercato dell'arte che in Italia è veramente morto cioè non è morto e stramorto quindi bisognerebbe guardare altrove tipo Francia Germania Inghilterra sono molto molto più attive non si sa perché ma l'Italia su questi fronti è veramente tabula rasa e che però consente all'artista magari di poter condividere veramente in modo professionale e su delle piattaforme specialistiche i propri lavori magari intercettando perché no il critico piuttosto che il curatore io stesso sono fruitore mi occupo di questo faccio mostre sono curatore e quindi perché no magari un domani potrei imbattermi in un giovane artista del territorio e inserirlo all'interno di un ciclo di mostre che facciamo come in Subria dedicati proprio agli artisti del territorio e quindi questo artista che il sbaglio visto su un social di questi potrebbe trovarsi improvvisamente ad avere un minimo di visibilità poi da lì a diventare torno a dire il nuovo Andy Warhol ce ne passa però sono comunque degli ottimi strumenti insomma Bene Max io sono veramente onorato di averti ospitato e spero che questa sia magari la prima conversazione che noi facciamo sull'arte per cercare di stimolare un po' anche il target più giovane ad avvicinarsi verso questo questo elemento importante ripeto che noi italiani abbiamo un po' nel DNA ricordo comunque che tu utilizzi in maniera propria anche le piattaforme social quindi mentre parliamo magari vanno in sovraimpressione anche i riferimenti dei tuoi profili ricordo materialmente magari anche un contatto mail e ringrazio il professor Massimiliano Ferrario docente di storia dell'arte contemporanea e postmoderna dell'università degli studi dell'Insubria Barese e Como per essere stato mio ospite e nostro ospite quest'oggi e mi auguro di ritrovarti prossimamente ancora parlando di arte grazie Massimo io ringrazio te Bruno sono stato onorato di poter essere protagonista con te di questo primo appuntamento sei stato un direttore d'orchestra veramente perfetto so che non ho toccato proprio tutti i punti che c'eravamo che mi ero sostanzialmente come dire presegnato però io tendenzialmente sono un po' uno che va a braccio poi quando devo entrare nel club questo è un bene di solito per i giornalisti perché vuol dire che possono accaparrarsi già un secondo appuntamento esatto che faccio io naturalmente grazie Max grazie a te è stato veramente piacevole spero che ci sarà modo per avere uno step due grazie grazie ciao Bruno ciao a tutti grazie grazie a tutti